welcome to the jungle amici miei bentorni su Pimprogramme sono Salvatore come sempre come state spero tutto bene ragazzi oggi torniamo come potete vedere qui di fianco con la cattedrale dei morti c'era sempre qui non mi preoccupate c'era sempre qui il formato cartaceo il primo capitolo abbiamo letto nell'altro video il prologo il primo capitolo che sono stati molto interessanti già ci hanno diciamo proiettato verso questo thriller storico penso che sia comunque abbastanza inerente alla realtà ovviamente è stato poi penso romanzato quindi tanta roba mi è piaciuto molto anche il modo di scrivere del dell'autore tanta tanta roba mi è piaciuto tanto voi avete risposto in maniera incredibile al primo video grazie grazie mille ragazzi veramente grazie grazie mille io non mi perderei tantissimo in chiacchiere ma passerei al secondo capitolo e perché come potete capire anche dalle intro dei miei video faccio veramente tantissimi errori quindi escono video biblici poi da aiutarli dopo tutti gli errori che faccio diventano tra virgolette abbastanza brevi però io passerò al capitolo ci vediamo tra poco monsignor albani si recò in tarda mattinata presso lo studio del vescovo per ricevere udienza ma prima di parcare l'ingresso fu tentato di indietreggiali e allontanarsi in punta di piedi dall'interno vi suonavano esclamazioni così concitate da spingerlo a rimandare la visita la guardia svizzera all'uscita però lo ricolobbe e lo invitò ad entrare fu così che albani si trovò ad assistere ad una scena grottesca sua eccellenza spiridione berioli o perioli camminava intorno alla scrivania sbraitando come un forsennato al cospetto di un gentiluomo elegantemente seduto su nel legno laccato il rettore l'aveva già incontrato diverse volte era l'architetto giuseppe valadier giunto da roma per ristrutturare la cattedrale urbinate dopo aver compiuto il terzo giro intorno al tavolo il vescovo tornò a sedere 60.000 scudi esclamò in direzione del rettore sistemandosi la parrucca questa sanguisuga mi chiede 60.000 scudi si tratta di spese necessarie spiegò il valadier che aveva l'aria di aver affrontato quel discorso mille volte se sua eccellenza ha a cuore la cattedrale si dovrà riedificarla per buon parte oltre ad una nuova cupola si potrebbe cogliere l'occasione per ampliarla con un portico esterno in ottemperanza ai canoni dei neoclassici basta basta spiridione berioli o berioli si portò le mani alle tempie ne parleremo in un altro momento ora ho ben altre incombenze immagino eccellenza l'architetto si alzò dalla poltrona ho saputo che stamane è stato trovato morto un frate scolopio non un frate qualsiasi sintromise l'albani facendosi avanti deteneva la cattedra di filosofia un uomo di grande intelletto il vescovo viene approfittò per invitarla ad accomodarsi monsegnore voi siete sempre il benvenuto e nel frattempo concedo il baladier con un cenno infastidito il rettore sedette a gambe accavallate prestando attenzione a non sguarcire la coda della marsina vorrei affrontare la questione di cui vi ho accennato stamane eccellenza me ne rammento e sono sensibile ai vostri argomenti disse il berioli credo però che dovreste accordarvi con il legato apostolico come ben sapete da quando il ducato urbino è stato devoluto alla santa sede l'università è diventata pertinenza dei legati del papa avete ragione ma prima gradirei ottenere la vostra approfazione dopo tutto stiamo parlando del discepolo di padre lamberti un vostro caro amico non so se amico sia la parola giusta obiettò il vescovo il professore biasimava i miei ideali politici e non sprecava l'occasione per rinfarciarmelo a monsignor albani come a gran parte del collegio dei dottori era ben noto il disprezzo di sua eccellenza per i motivi rivoluzionari del popolo francese il prerato era un dichiarato fautore dell'assolutismo monarchico e non vedeva di buon occhio le intromissioni del popolo infatti di governo di ben altro opinione era stato invece lamberti aperto fautore degli ideali di uguaglianza e di libertà ma i contrasti tra quei due uomini non si erano limitati alla politica tuttavia proseguì spiridione e berioli non nego di essere stato legato a quell'uomo da interessi comuni alta appunto da sentirne già la mancanza ecco perché avete il mio consenso nell'appoggiare il suo discepolo e subito dopo lo sorprese aggiungendo a patto che prendiate in considerazione per i vostri progetti anche una seconda persona un giovane promettente che mi sta molto a cuore ok ragazzi abbiamo finito anche il secondo capitolo che è stato brevissimo praticamente tre pagine non ho mai fatto un video così veloce quindi ottimo però non voglio registrare anche il terzo perché voglio che era una serialità ben definita su youtube per anche la questione di playlist dove potete trovare i capitoli suddivisi per bene quindi ragazzi io vi saluto a ragazzi un oltre un'altra cosa ho allargato un pochino anche il testo l'ho ingrandito quindi dovreste vedere anche meglio dell'altra volta spero potrei farlo anche un po più grande quindi non è un problema fatemi sapere sotto nei commenti se si legge bene soprattutto alla smartphone il mio dubbio è molto sullo smartphone io vi ricordo sempre iscrizione campanellina e like al video grazie grazie a miei ragazzi per aver dato il supporto nell'altro video spero che lo diede anche in questo ci vediamo al prossimo capitolo 3 quindi vi raccomando restate aggiornati ciao